Dal cuore del cantiere del prolungamento della linea 1 della metropolitana facciamo i più grandi auguri di un buon 2021 a tutta la città metropolitana di Torino. Questo è un cantiere tra i più importanti che rivoluzionerà il nostro modo di muoverci e anche di vivere tutto il contesto metropolitano. Torino con questa grandissima infrastruttura cambia pelle e si avvicina a quella che è la transizione ecologica che tutti insieme dobbiamo perseguire. La zona ovest è pronta per un 2021 fatto di grandi impegni, di grandi progetti. Noi vogliamo assolutamente stare vicino ai nostri cittadini e alle nostre imprese affinché si possa interpretare questo tempo complicato da una crisi sanitaria che porta con sé una crisi economica ma questi luoghi sono i luoghi del lavoro. Quindi insieme sono sicuro potremo guardare al futuro anche attraverso progetti importantissimi come la localizzazione delle università nelle nostre zone e come un'attenzione diffusa dei nostri comuni perché diciamo l'operatività e la voglia di fare e la voglia di fare sistema sono la chiave vincente per un 2021 che porterà del bene a tutti noi e a tutti voi. Buon anno dalla zona ovest!